Buongiorno ragazzi, questo è un video serio, uno dei pochi che faccio io volevo tranquillizzare tutti quanti per il terremoto di questa notte a Catanzaro e poi c'entro proprio qui vicino a casa mia a Catanzaro Lido vi lascio il video e poi vi dico una scossa veramente brutta, non avevo mai assistito a una scossa del genere e spero di non assisterne mai più a una cosa simile il letto praticamente era diventato una lavatrice impazzita cioè si muoveva così, il balcone voleva aprirsi, la balconata, le finestre volevano aprirsi e il lampadario ad elica che io ho si muoveva ho aspettato quei dieci secondi brutti che ci sono stati sono uscito di casa mi sono informato che chi doveva stare bene stava bene il sindaco aveva scritto che era tutto a posto che aveva avvisato protezione civile, vigili del fuoco eccetera eccetera e ci siamo un attimo tranquillizzati abbiamo aspettato che ci fosse stata la scossa di assestamento che sinceramente non ho sentito poi invece questa mattina ce ne sono state addirittura 23 niente, speriamo tutto bene da Catanzaro ad ora è tutto a posto quindi mando un bacione a tutti quanti quelli che mi hanno scritto vi voglio bene miau grazie a tutti